buongiorno e benvenuti all'autosmile oggi vi presentiamo questa vettura usata questa nuova vettura usata che c'è arrivata che abbiamo selezionato per voi è una kia soul allestimento your soul con cambio automatico sette rapporti è un 1.6 turbo diesel da 136 cavalli già euro 6 euro 6 ovviamente significa ancora niente problemi per circolazioni euro 6 significa macchina molto ecologica e cambio automatico comodità come mai visto vi invitiamo a venire a provarla qua da noi a secuniago nella nostra sede così capirete la qualità e la validità della vettura rapportata al prezzo all'anno cerchi in lega da 18 pollici cambio automatico doppia frizione sette marce sensori di parcheggio anteriori e posteriori ci piace molto in questa tonalità bicolor tetto bianco carrozzeria grigio antracite questa vettura particolare senza mai dubbio ma che sa esprimere il suo perché sulla strada è per questo che vi invitiamo a venire a provarla perché bella in foto bella nel video ma a provarla vi possiamo assicurare che vi lascerà senza parole ecco spiegato il perché la maggior parte dei suoi clienti sono soddisfatti la vettura comunque si è stata immatricolata a dicembre perciò a fine 2015 e a 190 mila chilometri circa oltre che i sensori di parcheggio posteriori ha anche la retrocamera per farvi parcheggiare al meglio la vettura perciò sensori di parcheggio anteriori e posteriori vanno bagagli molto ampio con doppio fondo e sotto al doppio fondo c'è il ruotino di scorta sedili posteriori sdoppiabili belli molto belli i pannelli porta anche quelli posteriori come questo qua e l'interno all'interno molto bello guardate che belli anche i sedili posteriori qui tre persone anche di statura medio alta stanno comode perché vedete anche lo spazio per le gambe che ampio airbag passeggero disattivabile come potete vedere anche il sedile di guida tenuto molto bene non è sgualcito e non è rovinato ecco la cloche del cambio 7 rapporti doppia frizione vetri elettrici anteriori e posteriori i specchietti che si chiudono si ripiegano elettricamente oltre che essere elettrici sbrinabili il sedile di guida regolabile in altezza qua ci sono tutti i comandi per le sp controllo dell'illuminazione fari regolabili in altezza e poi l'interno all'interno con questo volantino molto piccolino con tutti i comandi cruise control limitatori di velocità i comandi del viva voce bluetooth e questi qua sia del computer di bordo che dell'autoradio le spie ovviamente sono accese perché la macchina abbiamo girato solamente il quadro senza metterle in moto poi ovviamente si spegneranno tutte luci ad attivazione automatica si accendono e si spengono a seconda della luminosità esterna navigatore satellitare attenzione navigatore satellitare perciò questo un accessorio molto interessante su questa vettura climatizzatore automatico digitale perciò poi c'è anche l'autoradio con appunto viva voce bluetooth per le telefonate che risponde direttamente a cui comanda volante la presa 12 volt usb aux in bene o male questa vettura è già aggiornata su tutti i fronti poi lo specchietto interno che si oscura automaticamente non ha più lo scatto qua sotto ma automaticamente a seconda dell'intensità della luce proiettata dai fari delle vetture che vi sopraggiungono da dietro si oscurerà poi anche questa vettura è dotata delle casse infiniti che hanno un response audio incredibile però vi ripeto non credete a noi venite a provarla e constaterete con le vostre orecchie e i vostri occhi la vettura è già revisionata ed è certificata da autosmile ovviamente prima di consegnarvela taglia andata e poi siamo nel vano motore vano motore con questo cofano col doppio pistoncino vedete pistoncino di qua e di qua che tiene sul cofano ovviamente motore molto in ordine nel selezionare di questa vettura ne siamo certi che di sicuro è un ottimo prodotto sempre a portata al chilometraggio anno ripetiamo dicembre 2015 chilometri circa 190 mila è un allestimento your soul è una kia soul 1600 turbodiesel con cambio automatico doppia frizione sette rapporti vi aspetta qui da noi in autosmile ma ricordatevi sempre di contattarci prima di passare così sarete certi che la vettura sia ancora disponibile vi aspettiamo